Ci chiedevamo quali siano le esigenze delle famiglie imprenditoriali di oggi che abbiamo visto stanno cambiando per una situazione di passaggio generazionale diffusa, per la scelta di aprire a capitani di industria esterni, per tematiche di governance che diventano sempre più complesse da gestire. Allora come riuscire ad andare incontro a queste necessità sempre più sofisticate? Come intervenire? Lo chiediamo al prossimo ospite che invito qui sul palco insieme a me, Andrea Caraceni, amministratore delegato corporate, family office, sim. Ben arrivato, ho detto tutto bene? Allora, occhio al timer perché so che noi rischiamo di delungarci ma è un impegno alla scala quindi lo rispettiamo, giusto? Sì, ringrazio Josip perché mi ha spiegato che c'è questa cosa olistica che non ho ancora capito, però adesso vedremo cosa fare. Anche perché ha tirato, penso inconsapevolmente, mi ha alzato la palla per schiacciare e dire ci siamo noi, attività di family office. Non ho dubbi, ma qui ti interrompo. In realtà prima di dire ci siete voi, ci spieghi perché è così difficile o perlomeno quali sono le criticità che si incontrano quando una realtà come la vostra o tante altre che lavorano nel mondo dei family office devono gestire la famiglia, il patrimonio, l'impresa perché non sono la stessa cosa. Lo tempo? Ho già pensato io, vi faccio il famoso 3x2, cioè 3 minuti per 2 slide, 3x2 fa 6 e quindi forse ce la faccio. Se proiettiamo la prima slide, naturalmente la prima slide ha tre cose perché è la logica del 3 e sono le tre pianificazioni che devono essere fatte e il ponte, che è anche lui un AP, che è colui che mette insieme queste tre esigenze della famiglia che io dico è l'attività tipica del family office. Poi ci sono family office anche che fanno tante cose che non c'entrano niente, ma lasciamo perdere. Parliamo delle cose semplici. Dal mio punto di vista, con l'osservatorio che ho in questi 25 anni di esperienza come attività, mi sembra che ci sia il patrimonio che è centrale, che è il pilastro centrale, che collega sostanzialmente permette di gestire le tematiche che riguardano sia la famiglia sia anche l'impresa. Quindi le tematiche finanziarie sono abbastanza centrali perché consentono oltre che di fare la trasmissione della ricchezza, la pianificazione, che sono pianificazioni patrimoniali di lungo termine. Quindi qua dentro c'è tutto quello che abbiamo sentito di successione, wealth management e quant'altro che devono essere parte dell'attività del family office che si occupa di investire gli assets, sia liquidi che illiquidi. Naturalmente facendo queste due attività è facile poi passare sull'impresa perché come gestisci un asset illiquido sostanzialmente puoi dare dei consigli all'impresa per tutta la componente finanziaria dell'impresa. E dall'altra parte sulla famiglia è chiaro che i valori della famiglia sono i valori etici, morali, l'heritage e tutto quello che vogliamo, ma poi in sostanza è col patrimonio che tu crei una continuità di azione della famiglia nel tempo, a vantaggio di se stessa, a vantaggio della società, a far filantropia e quant'altre cose. Quindi il ruolo centralità del patrimonio e di conseguenza delle capacità finanziarie a disposizione di soldi è automatico, ma anche per regolare la pianificazione patrimoniale. Se una famiglia decide di fare un trust per assicurare l'educazione fino a livello universitario delle prossime generazioni, dei soldini ce li deve mettere. Quindi la componente finanziaria è comunque l'olio del motore che segue sia i fatti familiari sia i fatti dell'azienda. Quindi queste sono le prime 3P, sostanzialmente nelle 3P le componenti finanziarie sono prevalenti, poi ci sono anche delle componenti diciamo consulenziali di add-on, sulla famiglia bisogna poi guardare nella parte alta c'è la definizione della mission, il patto di famiglia, la governance familiare, dove alcuni family office si sono strutturati per dare aiuto anche in questo senso e altri invece guardano solo gli aspetti finanziari. E dall'altra parte sull'industria invece c'è sempre nella parte alta, evidentemente se mi occupo di governance dell'impresa, se vado a fare un po' di pianificazione strategica, se vado a fare il passaggio generazionale, anche lì avrò bisogno di competenze che non sono solo quelle finanziarie ma altre competenze consulenziali e alcuni family office danno anche questo supporto e altri invece sostanzialmente si occupano solo della componente finanziaria che un po' pervade la vita di tutte le famiglie. Nonostante poi ci sono altri family office che si occupano di gestire le macchine e le case. Diciamo che ognuno è specializzato in qualcosa? Sì, certo, io adesso sto dicendo quello che mediamente è il focus principale che governa un po' tutte le attività di questo tipo. Poi chiaramente c'è qualcuno che appunto se uno ha una collezionato storica invece che gestissela lui, ha qualcuno che la gestisce, però quelli sono attività di servizio che sono diverse. E la vostra invece è l'attività Andrea? Noi facciamo l'attività, noi siamo abbastanza completi con questa, sulla parte finanziaria direi che siamo abbastanza completi e ci stiamo strutturando adesso per offrire la consulenza lato famiglia, quindi erato anche impresa, quindi la consulenza strategica per la famiglia, sulla governance e i patti di famiglia, naturalmente in collaborazione con altri partner specializzati su questo. Una domanda fuori scaletta, tanto siamo fortunati, abbiamo ancora un minuto, ma dato... C'ho l'altra slide, 3x2. C'è l'altra slide, veramente? Grazie, c'ho due slide. Vai, 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 continuiamo con l'altra slide. È il 3x2, devo fare il 3x2. Hai ragione. E il 2x2, la seconda slide ha due cose, naturalmente la prima ne aveva tre e queste due sostanzialmente. E questo dice il passaggio che mi piace fare, che lega molto col discorso di Josip prima della family business, dell'imprenditore, è un passaggio che stiamo assistendo un po' in Italia e anche un po' in tutto il mondo, ma in Italia è abbastanza evidente negli ultimi decenni, l'imprenditore cos'è? Un signore che possiede un'azienda e che gestisce questa azienda. Quindi lui è l'amministratore all'interno del Consiglio, ci sono tutti i familiari e quindi loro gestiscono quell'azienda. Sempre di più adesso siamo di fronte a uno spostamento e quindi per fare questo si parla di family business, no? Perché è la famiglia che possiede un business che esercita il business. Mentre invece se ci spostiamo dall'altra parte, dove l'imprenditore si trasforma in investitore, a questo punto lui o ha venduto l'azienda o si è tirato fuori, ci sono esempi di quelli grossi, quotati, che hanno fatto questo, e non sono più imprenditori, non esercitano più, non sono più manager, non sono più amministratori, ma sono solo proprietari, quindi gestiscono al limite della definizione del Consiglio di amministrazione e dell'amministratore che dovrà poi gestire l'azienda. E chiaramente allora lì il passaggio da family business a family office diventa automatico, cioè a dire mentre prima family office era qualcosa di aggiunta al family business per gestire quello che non era nel business perché lo gestivano loro, l'imprenditore che adesso si è trasformato in investitore, a questo punto o si affidano a family office esterno o lui stesso crea un family office esterno che diventa la sua attività d'impresa. Questo mi sembra una cosa un po' carina e mi sembra sia il trend attuale. Grazie, la prossima volta. L'uno è la prossima volta, il due l'abbiamo fatto, l'uno la prossima volta. Perfetto, grazie, grazie mille ad Andrea Caraceni, grazie anche a te per essere stato qui con noi.